Ecco l'attesissima Aprilia Caponord 1002, che sviluppata sulla base tecnica della Dorso Duro 1002, si propone con una tecnologia all'avanguardia. Le linee riprendono il family look della Superbike RSV4 e in supporto dei 130 CV, abbiamo ABS, ride-by-wire con tripla mappature, controllo di trazione regolabile su tre livelli e per la versione dotata di Travel Pack, l'ADD, il sistema dinamico delle sospensioni semiattive, le borse laterali da 29 litri e molti altri importanti accessori.